Voglio il freddo e stare con questo 24 ore su 24 Ciao ragazzi questo è il nuovo video Questo video principalmente lo faccio perché stiamo per tornare con Sampo Finalmente mi sono deciso perché forse visto che non abbiamo appoggi e i nostri progetti sono andati un po' tutti quanti in fumo ho pensato che sarebbe stato giusto ripartire da Sampo, da Westside insomma molti mi dicevano cambio il nome al canale e molti mi dicevano anche cambia nick perché comunque scopio che è un po' troppo difficile no e no e non ho nessuna intenzione di cambiare nick assolutamente per trovarmi su Youtube alla fine basta scrivere Vincenzo Striano mi è difficile anche dire questo Vincenzo Striano è semplice come nome no? ho dato un'occhiata alla GM e ho sistemato anche alcune cosette spero non ci sia tanto lavoro da fare mi seguiranno sicuramente tra qualche giorno alcuni tester che iniziano a provare un po' tutta la GM a rivoluzionare ancora una volta questo mondo roleplay che alla fine è stato rovinato da alcuni seller insomma e non conosco la situazione di Sampo italiana in questo momento mi hanno detto alcune cose però la mia scelta di tornare non è stata influenzata da queste notizie concepute dal mondo di Sampo non me ne frega un cazzo di quello che è successo infatti tra un po' giro la telecamera vi farò vedere che ho pauno aperto anzi ma in realtà adesso c'è Facebook sto parlando con una testa di cazzo che si chiama Mirko Esposito che ne approfitto e saluto vi ho fatto vedere un video di Far Cry 4 e Far Cry è un bel gioco è un bel gioco che a noi piace guardate questo è il video e lui è gasato intanto abita in un posto dove ha il mio nome quindi deve solo ritenersi fortunato vabbè allontanare perché se no mi viene l'ansia e punteremo a cose semplici infatti per questa versione di Westside ho già pensato di eliminare il sistema FUMO no scusate il sistema FAMER e farò un nuovo sistema veicoli lo farò da zero e anche se molte cose erano abbastanza particolari per questo non volevo cambiarlo però devo fare niente ci sarà da un seguito ragione ancora più aggiornato del solito forca puttana che caldo questa maglia forca puttana Volevo indossare la mia carnitiera preferita soltanto che puntualmente quando voglio indossare qualcosa mamma lo ha lavato farò un piccolo viaggetto a sorpresa un po' viaggetto ora saranno vanno 20 minuti di marco andrò a trovare un mio amico e faremo un video insieme e quindi ci sarà una sorta di blog e questa cosa che faremo insieme che sarà abbastanza divertente sperando di trovare qualche posto dall'altra parte che si possa fare sennò ci ritrano pure i video di tutto quanto e... allora ragazzi è successo un casino perchè pensavo che la telecamera era carica non la utilizzavo tipo da... da un bel po' di tempo dal video con Giuseppe insomma e ho fatto un video ultimamente il video che stavo a letto e non l'ho caricato ho detto questa telecamera è spettacolare cioè io la carico faccio i video e non si scarica e dice e all'improvviso è scaricato quindi dopo dovevo vedere cosa ho detto cosa non ho detto io all'improvviso parlavo e l'occhiello era riuso ho dato una bestemmia e niente quindi io sto lavorando per Stasider e per oggi ho fatto poca roba stamattina ho fatto una roba quindi scoccia un po' quando lo sono io per stasera devo contare questo video quindi non credo di lavorare all'AGM ho anche alcuni impegni vado in palestra vado dopo poi mangiamo addormento basta la cosa importante è che comunque verrà risistemato tutto e ancora una volta cercherò di non fare gli stessi errori delle versioni precedenti cercherò di eliminare cosa fa laggare cosa che bagga riliquiderò un po' tutto e rifarò tutto piano piano non abbiamo fretta abbiamo aspettato tutto questo tempo e adesso tornare a Westside sicuramente non non è che bisogna avere tutta questa fretta quindi niente io vi faccio vedere un attimo una cosa guardate sono a Westside è un po' quando giro in questa città vi dico la verità eh è la prima cosa che faccio spero spero che passa qualcuno con la macchina a mangiare? va beh io comunque devo andare a mangiare alla fine stiamo tornando io vi chiedo scusa se ho fatto il video non ci arrendiamo e poi da un lato mi sono arreso molte volte le situazioni ci sfuggono di mano quindi rimedierò 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 a questa cosa e torneremo torneremo più forti di prima questa cosa si dita torneremo più forti di prima è sempre amarissimo il caffè a casa mia è sempre amare bah e mia mamma insista che è meglio così perché così ti svedi prima e poi fai meno male ai denti ah le mamme le mamme è il sale che fa male lo zucchero che fa male va bene quello che fai mangiatelo tu vorrei dire un'ultima un'ultima cosa se tu sei un vero fan di Legacy prima di tutto condividi il video poi metti mi piace e poi magari ti iscrivi al canale se non sei iscritto inviti i tuoi amici ad iscriversi al canale mi aiutate? conto su di voi ciao ragazzi questo è il nuovo video eh?